Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. Ci stiamo occupando delle numerose attività poste in essere dal suo ufficio, ma oggi vogliamo raccontare, vogliamo parlare di una storia vera, di una storia vissuta, una triste storia, una situazione che l'Avvocato Lupo insieme al suo staff ha saputo affrontare. Parliamo della vicenda di Raffaella, è il nome di fortuna di una ragazza tarantina di 14 anni, non diciamo il quartiere per evitare di risalire al soggetto, un quartiere particolare, una storia difficile quella di Raffaella, il papà operaio che si arrangia per portare qualcosa a casa, la mamma casalinga. Raffaella è la classica ragazza di casa che ha la sfortuna di imbattersi in un ragazzo più grande, in un bulletto per così dire di 22 anni, il quale inizialmente la circuisce. Raffaella cade nella trappola, Raffaella pende dalle sue labbra, probabilmente perché c'è un deficit affettivo in Raffaella da colmare attraverso questo giovane, il quale poi si trasforma, o meglio, rivela la sua vera identità, la sua vera natura, e Raffaella praticamente diventa prigioniera. Raffaella si trasferisce a casa della suocera, della madre di questo giovane e perde assolutamente, viene depotenziata della sua identità. Tant'è vero che Raffaella non potrà incontrare i propri amici, addirittura i familiari, Raffaella non potrà vestire come crede, ma deve soggiacere ai diktat del compagno. E' una situazione particolare rispetto alla quale si doveva intervenire e il consigliere di parità ha provveduto appunto nell'ambito delle sue attività, delle sue competenze. Una brutta storia rispetto alla quale però bisognava, come avete fatto, come dire, prendere il toro per le corna. Luigi, la storia di Raffaella e la storia di Raffaella, di Maria, di tante altre ragazze del nostro territorio, e questo ci deve far riflettere proprio a ridosso quasi della giornata sulla violenza delle donne, se poi qualche settimana fa noi abbiamo proprio focalizzato la nostra attenzione sulla situazione della donna. Come tu hai detto bene Luigi, Raffaella si innamora a 13 anni, il primo ragazzo che ti fa gli occhi dolci, soprattutto se è più grande di te, se ostenta sicurezza, ostenta benessere economico, ti fa sentire grande. Quindi all'inizio Raffaella raccontava alle sue amiche, beh io mi sono fidanzata e quando si è trattato poi, dopo i primi approcci con il suo, tra virgolette, fidanzato, addirittura andare a convivere, le amiche quasi hanno detto, beh Raffaella sta convivendo, quindi come un salto, come se fosse diventata improvvisamente una donna. E già questo è sbagliato, vedere la convivenza come il punto finale di un percorso e non un punto iniziale di un percorso, perché Raffaella non ha avuto esitazioni, ha lasciato la sua famiglia, beh consideriamo che era nel pieno dell'adolescenza, della crisi adolescenziale, probabilmente come hai detto tu, non veniva compresa, che ci vuole poco a dare sicurezza nell'insicurezza, non sei una donna, non sei una ragazza, per cui il primo ragazzo che ti fa sentire bella, desiderabile, tu ci cadi. Di questo va bene, però non va bene poi il fatto di farsi convincere ad una convivenza che in realtà è una prigione dorata, perché Raffaella per mesi è stata privata del suo cellulare, Raffaella non ha potuto più ricevere telefonate dalle amiche che la cercavano, comunicazioni scolastiche, perché devo dire ha avuto delle insegnanti fantastiche che hanno segnalato anche il caso, le insegnanti hanno cercato, hanno fatto di tutto per arrivare a Raffaella, non convinte di quello che stava accadendo. I genitori si sono resi subito, i genitori hanno preso già per buono il fatto che la figlia potesse convivere e anche questo la dice lunga su una sorta di mentalità che è imperversa nel nostro territorio. La storia di Raffaella deve far comprendere alle adolescenti che va bene l'innamoramento, ma un attimo, attenzione, non mettete la vostra vita nelle mani dell'altro e fate in modo che nessuno vi possa privare della vostra libertà. Consentimi Luigi di fare questo appello alle ragazze che magari ci stanno seguendo, non è amore vero l'amore che ti isola dal mondo, non è amore vero quello che ti priva del cellulare, ti priva dei tuoi effetti, ti priva delle tue compagnie. Raffaella non ha potuto più uscire, è stata spostata dalle sue amicizie, dalla sua vita normale e questo è molto grave Luigi, se non fosse anche un reato, ricordiamocelo, perché Raffaella era una minorenne, Raffaella non è una maggiorenne che ha coscienza e volontà delle sue azioni, è una minorenne sottoposta alla vigilanza dei genitori e quindi anche i genitori possono essere chiamati a responsabilità. Si parla di sequestro, si parla di violenza privata, si può parlare di violenza privata perché se qualcuno ti impone e ti limita nei movimenti, ti toglie il cellulare, ti impedisce di chiamare, ti impedisce di vedere le persone, i tuoi familiari, perché questa è violenza privata e sequestro di persone, quindi i reati erano tanti. Occorreva però non intervenire in maniera dirompente Luigi, perché gli stessi familiari non hanno voluto presentare le denunce, questo è anche grave, abbiamo dovuto far comprendere alla famiglia di Raffaella i reati gravi in cui loro stavano incorrendo, perché anche loro ritenevano quasi normale. Guarda Luigi, probabilmente anche la mamma di Raffaella avrà avuto la sua stessa vita quando era ragazza per accettare che alla figlia di 14 anni potesse capitare una cosa simile. Questo ci deve far riflettere, perché probabilmente noi istituzioni non abbiamo ancora fatto tutto, quando ci riuniamo per parlare della violenza sulle donne, non abbiamo mirato l'intervento giusto, perché c'è una parte di una fetta di adolescenti che ritengono normale questo comportamento. Tornando a Raffaella, siamo intervenuti nei confronti dei genitori, richiamando le loro responsabilità, abbiamo cercato di parlare con la cosiddetta suocera, che si era eretta a mo' di vice madre di Raffaella, perché Raffaella aveva cambiato anche abitudini Luigi, aveva imparato a servire a tavola, aveva imparato a fare i servizi, veniva adoperata quasi come colf nella casa del fidanzato, che in realtà poi continuava a fare la sua bella vita dall'uomo libero, entrava e usciva da casa e faceva quello che voleva, incontrando anche gli amici. Quando Raffaella si è permessa di dire perché la sera lui uscesse per incontrare gli amici, ha ricevuto anche dei ceffoni, perché doveva essere normale che il ragazzo uscesse con gli amici, mentre questo doveva essere vietato. Una situazione di degrado di valori, secondo me, è molto forte, che è qui vicino a noi, è intorno a noi, quindi questo ci richiama tutti, tutte le istituzioni, ad una maggiore vigilanza e un maggiore compito di informazione e di formazione nei confronti delle giovani donne.